partiti cavalli della quinta corsa del pomeriggio diamo subito l'aspetto tattico con Ornigold che parte e si porta subito al comando come è successo del resto anche l'ultima volta in seconda posizione si mette, si sistema all'interno Attila Rex poi Angel Dada con la giuba rossa e quella più all'esterno e poi un quartetto di coda formato dall'esterno verso l'interno da piccola Miss ancora Ace the Case, Red Spritz e Monza City con la prima parte di gara che è scivolata già via senza un ritmo esagerato da parte di Ornigold che è in vantaggio in questo momento in seconda posizione c'è piccola Miss in terza corsia invece troviamo Angel Dada, di dentro c'è andato Attila Rex, poi Monza City ancora Red Spritz e poi Ace the Case in ultima posizione ma a contatto 7 cavalli in circa 5 lunghezze, siamo già addirittura ad arrivo con Ornigold che suona la carica ed è il primo a lanciare la volata con Angel Dada che si presenta sui fianchi insieme a piccola Miss, di dentro ci vanno Red Spritz, anche Monza City e poi Ace the Case che è accompagnata anche da Angel Dada quando siamo a 400 al traguardo Ornigold ha debellato per ora tutti gli attacchi e sta andando in continua percussione anzi in graduale accelerazione è un canter per Ornigold che vince facile nei confronti di piccola Miss, Red Spritz ed Ace the Case vince facile 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 Ornigold, Dario Vargi in sella, training di Vincenzo Fazio che piazza il Tris nella giornata i colori sono quelli di Manila Illuminati doppio per Manila Illuminati dopo la vittoria di Bagued 4 al primo posto vince facile con il secondo andato a piccola Miss e poi per il terzo dovrebbe essere ancora Ace the Case o Red Spritz ma chiaramente c'è tempo per rivedere il tutto vittoria da lontano per Ornigold che l'ultima volta era andato veramente vicinissimo alla vittoria contro avversari decisamente superiori vittoria numero 2 in carriera per il figlio di Mohajim ben interpretato da Dario Baggio 4 al primo posto, 6 al secondo andiamo a scorrere le immagini per completare un po' il podio 4, 6 e poi al terzo il 7 Red Spritz è tutto da Capanelle per la quinta Grazie a tutti Grazie.